Il mercato è sicuro, riapriamo il mercato per tutti gli ambulanti. Questo è il vostro messaggio di questa mattina. Il mercato è sicuro, ma anche perché non è che lo dice Moreno. Moreno è uno dei componenti della commissione mercatale di Rivarolo Canavese. Oramai studi autorevoli dicono che il mercato è un luogo sicuro perché il contagio si ha uno su mille. Quindi solo una persona su mille all'aria aperta viene contagiata. Quindi assolutamente un luogo sicuro dove fare qualsiasi tipo di acquisto. All'aria aperta ci si contagia decisamente di meno, molto 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 di meno rispetto a qualsiasi centro commerciale. All'interno del centro commerciale non c'è un ricambio d'aria come c'è ovviamente all'aria aperta in una piazza. Questo è sicuramente accertato, come ho detto, è validato da diversi studi scientifici ed è detto oramai da diversi luminari. Oltre alla distanza che c'è tra il commerciante e il cliente e oltre al fatto che è il commerciante a toccare la merce e non il cliente. Assolutamente d'accordo. Infatti le peculiarità del mercato per quanto riguarda nel caso specifico di questa pandemia sono anche proprio queste. C'è un distanziamento automatico e naturale tra il venditore e l'acquirente. In più è sempre il venditore che gestisce il fatto che l'acquirente possa o non possa toccare la merce e possa toccare una quantità importante di merce come invece al supermercato avviene tranquillamente senza che nessuno possa assolutamente controllare questo fatto. Ecco, quindi anche in questo c'è una differenza molto molto importante tra la vendita ambulante e quindi la vendita al mercato e la grande distribuzione. Infatti le incoerenze a nostro avviso da parte governativa sono molteplici. Ci sono delle incoerenze veramente abissali. Una appunto è che allo stato attuale delle cose le attività all'aperto sono chiuse, mentre invece le attività al chiuso, quindi la grande distribuzione, è assolutamente aperta. Quindi questo è assolutamente illogico, non c'è logica. Poi anche noi siamo stati chiusi perché il virus continua praticamente a propagarsi, ma il virus bisogna anche capire per quale motivo non è stato bloccato. Forse perché sono state chiuse le attività sbagliate? Impressioni sulla protesta di questa mattina? Era presente il sindaco e diversi politici? Devo dire che sono rimasto favorevolmente stupito perché a mio avviso è stata una protesta pacata, a parte i rari momenti in cui gli animi si sono un po' accesi, devo dire che sono contento. Penso che sia stato un segnale bello, un segnale positivo, un segnale intelligente, che dimostra, che esprime il fatto che noi vogliamo lavorare, ma non siamo dei no max o dei no vax, nel totale rispetto della sicurezza perché noi al primo posto mettiamo sempre la vita umana che è sicuramente sacra. Zona rossa, soltanto mercato alimentare, stamattina i banchi, gli ambulanti, dei non alimentari hanno protestato. Sindaco presente, un parere da sindaco ma anche da medico sul fatto che gli ambulanti non possono mettere i banchi? Allora, intanto ringrazio gli ambulanti che hanno organizzato questa manifestazione bella perché è stata utile a chiarire tante cose, bella, pacifica, tranquilla. Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni presenti perché erano presenti due rappresentanti del Parlamento italiano, un rappresentante della regione Piemonte. La discussione e comunque la manifestazione ha portato a delle considerazioni che sono assolutamente condivisibili. Quella che non si capisce, se forse poteva essere parzialmente capita un anno fa, oggi non si capisce perché il commercio ambulante che è all'esterno, che è in ambiente aperto, dove il virus sicuramente corre molto meno velocemente che in ambiente chiuso, non possa essere completamente libero e aperto per tutte le tipologie di merci. Quindi noi ci uniamo alla loro richiesta, che non è una contestazione, è una richiesta di far sì che anche in zona rossa il commercio ambulante di tutte le tipologie possa funzionare e possa rimanere aperto. Da punto di vista medico devo dire che è scientifico quello che il virus in ambiente chiuso ha una diffusione maggiore e in ambiente aperto assolutamente minore. Poi se quelle che sono le regole, le regole che ormai tutti conosciamo, il distanziamento e l'utilizzo della mascherina e l'igienizzazione delle mani quando è necessario, in certi momenti vengono applicate, sicuramente il virus rimane distante e la possibilità di contagio è nettamente inferiore. Quindi noi come amministrazione comunale appoggiamo e chiediamo ai rappresentanti delle istituzioni presenti di farsi carico di questa richiesta degli ambulanti di Rivarolo, non solo di Rivarolo, degli ambulanti del Canavese e anche dei commercianti locali presenti, erano presenti anche alcune categorie tipo i parrucchieri, gli estetisti eccetera, e far sì che loro possano lavorare nella speranza che prima o poi possano veramente lavorare tutti perché questa è la speranza di combattere e grazie anche a quello che sarà una diffusione maggiore delle vaccinazioni che questo virus quanto prima possa essere sconfitto. Questa mattina protesta degli ambulanti e di alcuni commercianti che arrivarono in piazza Massoglia, impressione da parte dell'amministrazione che comunque era presente. Ma in realtà siamo molto lieti del messaggio che hanno voluto mandare, soprattutto dell'organizzazione corretta e del modo di portare avanti delle idee in maniera sempre corretta e con grande volontà di dialogo e questo è fondamentale. I messaggi che hanno lanciato sono validissimi e corretti e condivisi dall'amministrazione soprattutto e quindi sul commercio in sicurezza anche l'amministrazione si sta spendendo con l'aiuto di volontari e l'organizzazione della polizia locale per proprio gestire anche possibili assembramenti e quindi per creare veramente un luogo di commercio in sicurezza e quindi ci sentiamo di appoggiare in tutto e per tutto la loro manifestazione assolutamente.